Sì, grazie a voi. Abbiamo lavorato in Commissione di Mafia a lungo sul tema del rapporto tra criminalità organizzata e gioco d'azzardo, producendo una relazione che io credo che ha un grande valore di cui Stefano Baccari è stato appunto il relatore e l'artefice, quello che mi riguarda questo lavoro si è intrecciato con la presentazione di una proposta di legge di riforma complessivamente del gioco e poi di un lavoro fatto in questi anni a partire dalla delega fiscale per costruire quell'intesa Stato dei giorni che doveva e poteva tradursi in una legge di riforma complessiva del gioco legale in questo Paese, cosa che è necessaria anche se vogliamo porci la questione della legalità, se vogliamo porci la questione del contrasto alla criminalità organizzata e alle infilizzazioni della città organizzata nel gioco. Noi abbiamo una legislazione assolutamente emergenziale, non stiamo intervenendo ancora in questa legislatura, siamo intervenuti spesso ma siamo intervenuti sulla materia del gioco legale in maniera assolutamente emergenziale, facendo interventi spot senza riuscire ad attuare quella delega che la delega fiscale dava il governo, perché comunque siamo arrivati a una intesa, secondo me lo dirò, importante tra Stato e regioni che però non si è traduta in una legge. E guardate, senza una legge di forma complessiva diventa complicato anche affrontare il tema del contrasto alla criminalità organizzata, ma soprattutto diventa complicato affrontare il tema di vista a cuore a tutti noi, quello di riuscire a diminuire la domanda conferma del gioco in questo paese, che esplosa, esplosa ancora di più nel momento in cui si è deciso di introdurre nei locali pubblici con vocazioni diverse dal prezzo di gioco le macchine con premi di denaro e altre forme di gioco con premi di denaro. Oggi siamo di fronte tutti alla necessità di dare limiti significativi, di tornare indietro rispetto a queste scelte, però in assenza di una legge è complicato. Abbiamo fatto delle cose, resta la norma che riduce drasticamente il numero delle AVP nei locali pubblici non dedicati al gioco. Abbiamo, e questo dal punto di vista della lotta alla criminalità organizzata, c'entra perché è stato uno strumento in mano della criminalità organizzata, abbiamo imposto che le slot che ci saranno, le AVP dovranno essere tutte ad accesso remoto e quindi si impedisce, bisogna impedire le truffe che con la manipolazione delle schede venivano fatte. Abbiamo rispetto all'offerta, alla domanda, ridotto gli spazi pubblicità, ma è evidente che quel provvedimento non funziona, basta guardare qualunque battita su qualunque canale che trasmette, è assolutamente evidente che la situazione è da questo punto di vista che è un po' di controllo perché ormai gli eventi sportivi stanno diventando funzionari alle scommesse e la pubblicità sta diventando quasi un elemento connesso. Se vedete le partite su qualunque televisione, in due minuti vi spiegano che cosa potete scommettere, come potete scommettere e quindi io penso che su questo ci sia da fare immediatamente un intervento contro il fatto che quando ci siamo trovati abbiamo contrastato a sui, ci siamo trovati addirittura una società che gestisce il gioco, sponsor della nazionale di calcio, abbiamo evitato per un vero che ci sia da sentire il gioco di calcio con una maglietta, la sigla di una società di gioco. Quindi io penso che serve una legge di riordino complessivo, io penso che noi, che il documento di intesa tra Stato e Regioni che so che ha avuto il contenuto vostro in maniera significativa, ci siamo anche parlati l'anno scorso e molte delle istanze che l'anno scorso erano state poste qui, sono state poi raccolte, penso rispetto alla certificazione delle sane, penso rispetto ai temi della salute, penso a una serie di altre cose che si sono integrate, io credo che quel lavoro è stato un lavoro importante con il contributo non solo di Stato e Regioni, non solo di Governo e Regioni ma di tanti, che ha portato a un buon punto di equilibrio, io penso che il primo impegno, io sottoscrivo già da ora le proposte che sono state fatte. Aggiungiamoci che un impegno deve essere anche non ripartire da zero nella prossima magistratura, c'è un desastato Regioni che credo può essere almeno, non un punto d'arrivo, ma almeno un corposo punto di partenza per costruire quella legge che serve. Guardate, la criminalità organizzata l'abbiamo verificato in tutta la discussione della commissione dell'antimafia, l'abbiamo verificato in tutte le audizioni, trova nel gioco tanzato complessivamente ma trova anche nel gioco legale e ha trovato, ce lo dicono le inchieste, moltissimi spazi di attività che richiedono un intervento serio e legislativo per chiudere quelle costruite. Ho detto prima, già diminuire le slot dei locali pubblici e garantire l'accesso di remoto che non toglie spazi alla criminalità organizzata, che sulla manipolazione delle schede ha costruito un pezzo di proprie fortune soprattutto perché questo gli garantiva la possibilità o di guadagnare di più e quindi truffare gli utenti oppure di utilizzare le slot per fare il proprio riciclaggio di denaro. Ma anche la commercializzazione soprattutto nel mezzogiorno delle slot è stata fortemente legata a, abbiamo visto in molte inchieste, alla criminalità organizzata. Ora, maggiori controlli su questo settore riducono questi spazi. Però i veri problemi sono, io penso, il primo, noi abbiamo capito, che c'è tra le tante attività della criminalità organizzata, delle mafie, c'è quella di investire nelle società, soprattutto nelle società di gestione del genere. Allora qui ci sono diversi già oggi la nostra legislazione stabilisce criteri per accedere alle concessioni molto ricche, le concessioni per gestire il gioco. Non basta, la proposta che noi facciamo, non basta che si dica che non possono accedere, quindi non possono avere concessioni o essere gestori, coloro che hanno compiuto reati legati alla criminalità organizzata. La proposta che fa la Commissione dell'antimacchia è di estendere i quadri di questi reati che rendono impossibile e impraticabile entrare in un gioco legale, soprattutto per quello che riguarda tutti i reati contro il patrimonio e quindi la corruzione, sostanzialmente i reati corruttivi e per quello che riguarda i reati fiscali, perché è evidente che questi reati sono reati che i prodotti dentro la filiera del gioco possono condizionarlo negativamente. Poi ce ne sono altri, poi adesso non posso ampliare, rendere più complicato entrare nella filiera del gioco per chi ha cantipendenti che ci fanno intendere o possono lasciarci. Quindi da questo punto questo ragionamento poi sta insieme alla scelta che già si è fatta di estendere la necessità di avere la certificazione dell'antimafia anche per tutte le società. Ora facciamo un altro punto che abbiamo notato è che i concessionali scelgono i gestori e spesso, questo ci dicono le inchieste, è proprio nelle società di gestione che si sono abitate le infiltrazioni. La riflessione che abbiamo fatto è che i concessionari però non possono mai tirarsi fuori, perché oggi i concessionari sono i responsabili di fronte alla legge rispetto a ciò che fa il gestore. Mentre noi pensiamo, questa è la proposta della commissione, che i gestori richiamino una responsabilità anche di chi la sceglie dei concessionali e quindi anche i concessionali debbano rispondere e quindi è ovviamente un modo per dire che i concessionali devono farsi carico anche loro di garantire che la filiera sia una filiera che viene protetta rispetto alla infiltrazione della cliente organizzata. E ancora l'altra proposta è quella, e qui c'è anche un tema che riguarda direttamente un altro interesse della priorità organizzata sul gioco che è quello del riciclaggio, e quindi c'è il tema di avere trasparenza rispetto ai flussi di denaro e quindi che tutti i flussi di denaro di tutta la filiera, dal giocatore fino al concessionario, devono essere tracciabili, devono essere fatti con sistemi che garantiscono la tracciabilità. Aggiungo ci sarebbero altre cose perché è evidente che un altro interesse della criminalità organizzata sul gioco è quello del presidio delle sale da giochi, del casino, perché evidente che il fenomeno dell'usura trova un grande spazio. Come sapete bene, è uno dei temi, come sapete bene, chi si rovina col gioco spesso, quasi sempre, cade nelle mani dell'usura. Ora, qui diventa difficile intervenire se non introducendo nella certificazione delle sale. L'idea che noi abbiamo, che abbiamo messo nel documento, è quello che il gioco si si svolga in sale dedicate meno di quelle che ci sono adesso, la metà, che siano certificate non solo dal punto di vista della formazione, dell'operatore, della salute, eccetera, eccetera, ma anche dal punto di vista, riprendendo molte delle proposte che ho sentito raccontare prima da Ioni, ma anche dal punto di vista della garanzia che si svolga un'attività, chi gestisce svolge anche un'attività di presidio rispetto a queste vicine. L'ultima questione riguarda i controlli, noi sappiamo un'esco, c'erano già, ci sono già nell'intesa Stato-Regione, c'erano già nell'ipotesi che il governo aveva fatto di decreto per tradurre la delega fiscale, c'era già l'ipotesi di rendere più difficili gli accessi e quindi definire pratiche più rigide rispetto al permesso di operare per chi gestisce il gioco. C'è un tema, più noi riusciamo a costruire una legge che appunto fa della certificazione, delle garanzie, del funzionamento dei luoghi in cui si gioca, un tema fondamentale, la garanzia della legalità ma anche della salute dei cittadini, è evidente che il controllo che quelle norme diventino progetti è da fondamentale. E quindi l'altra idea che avanziamo è quella di responsabilizzare e costruire insieme alle forze dell'ordine ma con la partecipazione attiva dei vicini urbani, delle guardie municipali, sistemi di controllo che diano a tutti loro la possibilità di intervenire. Sapendo che quando parliamo di interventi noi diciamo non più solo bene le comunarie ma prima di tutto prendiamo a modello, quando parliamo di criminalità organizzata, prendiamo a modello gli strumenti di prevenzione che abbiamo messo in campo in questi anni contro la criminalità organizzata e mettiamoci nelle condizioni di chiudere, a seconda della gravità di eratica, sempre o per un periodo quelle sale, impedirne il funzionamento. Abbiamo chiamato, abbiamo detto, abbiamo chiamato una sorta di daspo per i gestori. Però mettiamo in campo tutte le misure di prevenzione che già ci sono e che sono applicate sulla criminalità organizzata su altro per creare un disincentivo forte, un contrasto forte alla criminalità organizzata. Mi fermo qui, insistendo su un punto, io trovo le proposte che ho sentite le giuste, tutte dentro al lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Io sono un po' dispiaciuto a chi ha seguito la gente, un po' dispiaciuto che l'intesa è stata già di non si sia tradotta in una... forse aveva dei libidi, so che c'è ancora discussione, però quell'intesa c'era e è un peccato che non si sia tradotta nel decreto che avrebbe risolto il problema principale che è quello di avere una legge di riordino complessivo del settore. Lo dovremo fare, lo dovremo fare nella prossima legislatura. Ripeto, non partiamo da zero, costruiamo proposte di legge che riprendono quella riflessione, che lasciano spazio anche ai diversi punti di vista, però io penso che l'impegno di tutti debba essere quello di dire e chiedere che questa vicenda sia una vicenda prioritaria per il prossimo Parlamento, chiunque non avrà il governo.